Credito finanza confidi Rappresentanza, consulenza e informazioni in materia di credito, finanza e confidi per agevolazioni e finanziamenti d'impresa, rapporti e indagini con il sistema bancario, gestione e sede locale di Confidi Lombardia per concessione garanzie su operazioni a breve, medio e lungo termine. Associazione Industriale di Cremona, quotidianamente al fianco delle imprese.